Ciao, io sono Maddalena Rossi, ho appena iniziato la laurea magistrale in ingegneria aeronautica con indirizzo aerodinamica, dopo aver concluso la triennale in ingegneria aerospaziale, sempre qui al Politecnico di Milano. Io ho scelto ingegneria aerospaziale perché ho una grande passione per la barcavela. Questa passione è nata quando avevo 7-8 anni, ho iniziato a praticare questo sport con dei corsi di iniziazione all'idroscalo alla base della Lega Navale Italiana di Milano, poi mi sono spostata alla base di Derbio sul lago di Como e da lì non ho più smesso di andare in barca. Ho iniziato ad entrare nella squadra agonistica e crescendo ho potuto sperimentare diverse classi. Sono passata dall'Optimist al Laser 4.7 al 4.20 e al 4.70. Sicuramente la vela mi ha permesso di crescere molto e in più mi ha dato la curiosità necessaria per interessarmi a tutto ciò che accade nel funzionamento e nel meccanismo dell'avanzamento di una barcavela all'interno di questi due fluidi acqua e aria. Sicuramente questo è quello che mi ha spinto negli ultimi anni del liceo a capire che quello che volevo studiare apparteneva a questo ambito e mi avrebbe permesso di soddisfare questo desiderio e di conoscere tutto ciò che c'era all'interno della barcavela e di tutto il suo mondo all'interno dei due fluidi. Dunque il mio sogno per il mio futuro è sicuramente quello di andare a progettare barche a vela come lo era appunto pochi anni fa quando sono uscita dal liceo. Tuttora quello che vorrei fare è specializzarmi in aerodinamica e poter studiare quello che consiste nella fluidodinamica delle vele e dei profili velici che adesso sono i foil della barca all'interno dell'acqua. Allora se dovessi consigliare a una ragazza delle scuole superiori di intraprendere il mio stesso percorso lo farei perché penso che sia molto stimolante e che il Politecnico di Milano come Ateneo possa dare davvero grandi opportunità se si è interessati e incuriositi alle materie scientifiche e tecniche che vengono qui affrontate. Penso che ci voglia una grande forza di volontà e di determinazione e che però con questi due elementi si possa andare veramente lontano e non bisogna perdere le occasioni che vengono proposte ogni momento in ogni ambito e in ogni occasione perché sono veramente tante. Se dovessi parlare con la mia me del liceo penso che le vorrei dire stai tranquilla abbi fiducia in te stessa che ce la puoi fare e abbi fiducia nelle tue capacità in quello che hai studiato nelle tue caratteristiche naturali che ti permetteranno sicuramente di andare bene e mi direi soprattutto di non scoraggiarmi di fronte ai momenti di difficoltà e di incertezza che di sicuro ci sono ma di tenere duro e veramente di credere fino in fondo che si può fare non è una cosa pazzesca ricorderò per sempre il primo parziale di analisi 1 il primo anno dopo pochi mesi che ero entrata al Politecnico e ovviamente ero un po spaventata non sapevo come sarebbe andata non sapevo se il mio metodo di studio fosse adatto se avevo compreso quello che il professore richiedeva da me eppure è andato bene ed è stato un momento bellissimo perché lì ho capito che potevo farcela mi ho detto ok maddalena allora questa avventura che hai scelto che hai appena iniziato si può fare ricordo che non è legato agli esami è di sicuro quando sono entrata all'interno del polimise il team o meglio sono andata a conoscere gli altri membri e ho pensato che per la prima volta all'interno del Politecnico di Milano che era il contesto dove di solito studiava andava lezione eccetera potevo veramente applicare e esporre la mia passione e renderla utile e quindi è stato un bel momento perché ho capito ok a cui al Politecnico si studia si fa fatica si impegnano tante cose ma posso portare la mia passione e renderla utile a qualcuno e per qualche progetto allora non ho mai incontrato nessuno nella mia carriera universitaria che abbia cercato ho provato di scoraggiarmi a scoraggiarmi nei tre familiari nei tre i docenti nei tre i miei compagni colleghi sono sempre stata molto incoraggiata e anzi devo dire ho trovato al Politecnico un ambiente molto aperto molto disposto non ad aiutarti tanto ma a darti la possibilità di farcela in ogni caso sicuramente non non è un ambiente predisposto a scoraggiare gli studenti devo dire che nel mio background avevo incontrato una professoressa alle medie di matematica che era stata bravissima e che ricordo tuttora con molto piacere perché mi aveva mi ha passato una grande passione per la matematica e la fisica e a lei che devo la scelta di intraprendere il liceo scientifico e poi l'università l'ingegneria all'università allora il mio rapporto con i miei colleghi e gli altri studenti direi piacevole nel senso che ho costruito ovviamente in questi anni un gruppo di amici con cui mi ritrovo a studiare anche non a studiare e in cui il nostro rapporto è molto molto giudiale di cooperazione questo non toglie che siamo tutti secondo me molto competitivi all'interno della stessa classe ma anche all'interno dello stesso gruppo di amici l'obiettivo rimane cercare di andare bene e chi va meglio è sicuramente gratificato non solo dalla valutazione ma anche dal sapere che gli altri lo mirano l'apprezzano molto se devo parlare di me in qualche aggettivo direi che sono una ragazza solare ed estroversa anche io sono competitiva come lati negativi direi che sono sensibile ad alcune situazioni per cui spesso mi faccio demoralizzare e scoraggiare nei momenti difficili e sono i momenti in cui faccio più fatica a trovare la fiducia in me stessa e la voglia di andare avanti però ce l'ho sempre fatta il mio percorso di studi è stato sicuramente impegnativo, stimolante, tosto in generale io penso che il Politecnico di Milano per far conoscere maggiormente le materie ingegneristiche ai liceali soprattutto alle ragazze potrebbe aumentare l'attività di pubblicità all'interno dei licei appunto aumentare le possibilità di open day, di rapporto comunicazione fra gli ex studenti e gli interessati fra i professori e gli interessati e io ero convinta della mia scelta quando ho dovuto farla però mi rendo conto che in situazioni di indecisione potrebbe essere molto utile avere a disposizione qualcuno con cui parlare, qualcuno con cui confrontarsi detto ciò io penso che in realtà sia un problema molto più grosso sia un problema radicato nella società, quello delle ragazze che sono molto poche nelle materie ingegneristiche penso che sia un problema che ci portiamo dietro da tanti anni che di sicuro appartiene alla nostra tradizione, alla nostra cultura, delle radici storiche e vede ancora spesso la donna come colei che non può affrontare dei ruoli lavorativi che siano al pari di quelli degli uomini che allo stesso tempo non possa affrontare o non sia vista idonea ad affrontare delle materie tecniche dove lo studio è approfondito, dove il lavoro richiesto è sicuramente grande e impegnativo e che quindi non si addice a una donna, a una donna che poi probabilmente è più consona a mettere su famiglia, ad avere dei figli per cui per tutti questi motivi penso che noi ci trasciniamo da molti anni le donne tuttora fanno fatica ad essere incluse in questi ambiti tecnici scientifici penso che si stiano facendo dei grandi passi avanti in questa direzione ma che ancora molto debba essere fatto tuttora lo vediamo, al liceo classico la maggior parte degli studenti sono ragazze i ragazzi sono molti pochi perché i ragazzi tendono a dover scegliere delle materie o quindi un percorso scolastico alle superiori che li porti ad affrontare delle materie difficili, tecniche dove si pensa poi avranno una professione più adatta a quello che noi definiamo uomo a quanto pare io non credo in questa cosa ma penso che il cambiamento debba proprio partire da noi cioè da noi studentesse, da noi che vogliamo studiare qualcosa, abbiamo la passione per qualcosa e ci troviamo indecise, spaventate, intimorite, scoraggiate da altri, da elementi esterni, da quello che è la società ora e deve partire da noi questo cambiamento, questa voglia di dire mi voglio applicare, mi voglio impegnare voglio studiare quello che mi piace, lo faccio, cercando di andare oltre quelli che sono i paradigmi della nostra società mi preoccupa di sicuro finire la laurea in ingegneria e la magistrale in realtà non sono molto preoccupata per quello che sarà il mio futuro lavorativo penso che il Politecnico dia delle ottime basi e che sia un ateneo molto conosciuto e ci permetta veramente di raggiungere qualunque tipo di livello, fare qualunque tipo di carriera quindi questo non mi spaventa e so che dovrò trovare il mio spazio all'interno di un mondo che è sicuramente molto competitivo Buona fortuna, non avere paura, per le ragazze ci sarà sempre bisogno, ci sarà bisogno di te e della tua determinazione Ciao!